Da Firenze ad Auschwitz per ricordare l'orrore delle deportazioni naziste, sono 550 gli studenti delle quarte e quinte superiori delle scuole toscane che il 20 gennaio saliranno sul treno della memoria 2019. L'undicesima edizione, organizzata dalla regione toscana con il Museo della Deportazione di Prato, è dedicata ai cento anni dalla nascita dello scrittore e sopravvissuto alla deportazione Primo Levi e ancora una volta porterà i ragazzi, formati nei mesi scorsi sui luoghi dell'orrore, i campi di Birkenau e Auschwitz I. A rappresentare la regione sarà la vicepresidente Monica Barni. È un progetto che si rinnova, ma è un progetto che vede coinvolti gli insegnanti e i ragazzi. Noi puntiamo moltissimo sulla conoscenza, sul far conoscere ai ragazzi quelli che sono stati gli avvenimenti e le scelte che hanno portato poi a una delle pagine più buie della nostra storia. Compagni di viaggio eccellenti, i sopravvissuti come tra gli altri le sorelle Andra e Tatiana Bucci, affezionate al viaggio della memoria toscano. A loro e agli altri sopravvissuti prima della partenza sarà consegnata la medaglia d'oro Pegaso. Novità di quest'anno, un dibattito sull'Europa e sulla memoria tra il presidente della regione Enrico Rossi e il vicepresidente della Commissione europea Franz Timmermans a Cracovia. Per la prima volta poi ci sarà una studentessa cinese in rappresentanza della comunità cinese di Prato. Vico diceva la storia è falsa ricorsi e ricorsi. Primo Levi aveva detto è successo, può succedere ancora. Allora il nostro compito è quello di far sì che i ricorsi non ci siano, che non possano avvenire. E per fare questo ci vuole quello che si chiama controllo primario, cioè l'educazione, la scuola, ma non solo dei ragazzi, ci vuole quello che si chiama in inglese life law learning, l'aggiornamento, chiamiamolo così, degli adulti. E infatti a bordo del treno con gli studenti ci saranno anche 60 insegnanti formati durante la summer school estiva della regione e poi i rappresentanti delle istituzioni, uno sforzo organizzativo enorme ripagato dall'arricchimento che i ragazzi ogni volta portano a casa. È un lavoro organizzativo, un impegno non indifferente, che ci impegna e che ci fa lavorare per tanti mesi, perché si parla sempre di 720 partecipanti con esigenze diverse.